C'è preoccupazione però nello stesso tempo la consapevolezza che con le forze di polizia in campo tra l'altro sono previsti anche degli incrementi nell'anno in corso, già ne sono arrivate una parte speriamo di far fronte, tutte le situazioni vengono verificate dai prefetti in sede di comitato provinciale Con padre Don Patriciello abbiamo parlato innanzitutto della situazione di Parco Verde abbiamo stabilito che occorre fare un piano d'azione su due o tre punti immediatamente perseguibili io ho dato assicurazione che sto per firmare il decreto per cui la tenenza dei carabinieri verrà trasformata in compagnia è una richiesta che da più tempo era stata fatta e adesso diventa realtà ma certamente non è che modificando arriveranno più uomini, ci sarà un territorio che verrà controllato in misura maggiore e con più efficienza